Christian ha detto che ci hai organizzato una settimana interessante. È una sorta di bizzarro festival, con cerimonie speciali e costumi particolari. Sembra divertente. Incredibile. Benvenuti e felice Midsommar! Skol! Chi ne pensi? Sembra un altro mondo. Domani è il grande giorno. Sei preoccupato? Che cos'è? Ha delle proprietà particolari. Ti prepara per il rito. E abbatte le tue difese. Fidati. Dobbiamo solo ambientarci. Non voglio ambientarmi, voglio andarmene. Assolutamente no. Che succede? Sì, 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 sì.